L'obbligo di vaccinazione entro il 15 dicembre per alcune categorie specifiche come forze dell'ordine, militari, sanitari e insegnanti ha portato ad un incremento delle prime dosi. Per avere il lascia passare necessario entro il 15 dicembre bisogna avere almeno una dose di vaccino fatta, pena la sospensione del lavoro senza stipendio. Anche la ASL1 ha fatto registrare un incremento delle prime dosi, anche se il dato era già abbastanza positivo, spiega il dottor Enrico Gianzante, la maggior parte delle persone si erano già vaccinate. Per queste categorie inoltre negli hub ci sono corsie preferenziali, anche per la terza dose, perché non si fanno più in caserma per quanto riguarda le forze dell'ordine. L'obbligo vaccinare e l'effetto Green Pass hanno portato a un aumento deciso delle persone che vengono a vaccinarsi. Per queste persone abbiamo tra l'altro riservato delle corsie preferenziali, nel senso che non hanno necessità di prenotarsi proprio perché le vogliamo immediatamente vaccinare. La prenotazione è invece indispensabile per chi vuole fare la dose booster, ovviamente che avrà fatto la prima dose, avrà a sua volta una data in cui poter tornare. Anche nella categoria dei 12 anni in su c'è stato un incremento della richiesta visto il Super Green Pass necessario per svolgere molte attività, compreso l'uso dei mezzi pubblici. Parliamo di persone che erano indecise e di conseguenza questo le ha aiutate a prendere la decisione che definirei senz'altro giusta. L'incremento c'è e siamo molto contenti di questo. In pochi, almeno alla Aslo 1, stanno rifiutando il booster con un vaccino diverso. Qualche persona c'è effettivamente che ha dei dubbi, sono molto limitate, sono molto poche e del resto i nostri operatori cercano di spiegare quella che è la normativa, la circolare che ci è stata data e la maggior parte delle persone dopo le opportune spiegazioni dei nostri operatori accetta volentieri la vaccinazione che viene proposta. Del resto i vaccini mRNA hanno tutti la stessa azione e quindi dico a tutti di non preoccuparsi.